Il problema di questa festa è perché non ha mai lavorato un giorno in vita sua? Mai! Salutiamo i disoccupati presenti che sono maggiori di gli occupati! Ciao! Questi sono i disoccupati! Allora, alzate le mani che sono gli occupati! I disoccupati! Giuliana, i disoccupati? Benvenuti al primo maggio! Benvenuti al primo maggio! Mamma mia! Mamma mia! Questa è un sondaggio vero questo? Allora, stavo dicendo, poco ogni anno il concertone si apre con la finalissima dell'AM Festival, il contest di musica emergente, che ogni anno porta altre band a sfidarsi in aria, su questo parte! Anche quest'anno l'AM Festival ha registrato un grande successo! La pagina del Festival ha sfidato in quasi un milione di visualizzazioni! E' stata da dunque una grande occasione di disabilità per le 100 band che si sono sfidate! Ma prima di scoprire l'isola di 30 minuti quest'anno, direi di lasciare su quel palco ai vincitori del 2013! E' una cosa da dire, non vi accoppiate perché è un coraggio che vi vedono! Questa band che adesso sto per presentare, hanno l'attivo già delle collaborazioni internazionali, persino sai con chi? Con gli ASEAN DAB Foundation! Con l'UGAL! Loro vengono dal Salento! Anzi, vi aiuto! Saluto a tutti i potessi! E sono i CRIFIU! Buona musica ragazzi! Buona giornata! E buon giorno! E buon giorno! E buon giorno la musica!